Allora Maria Elena, dopo lo spavento di ieri oggi è stato tutto molto più facile? Sì, è stato più facile, mi sentivo meglio in campo, anche se la mia avversaria ha fatto secondo me un buonissimo match. Non la conoscevo, però un buon match è stato sia dall'inizio alla fine, quindi sono contenta della mia partita. Che difficoltà hai trovato sia ieri ma anche stasera a giocare in un campo così pesante? È un po' difficoltà a chiudere il punto, gli scambi si prolungano un pochino e anche un po' sugli spostamenti, sai col terreno pesante, poi io in queste condizioni faccio un po' fatica nei cambi di direzione, però questo è il mio secondo match che ho vinto, pian piano speriamo sempre di migliorare e prendere confidenza. Domani un impegno però non semplice contro la giovanissima croata Mekovec, la conosci? Classe 95? Non la conosco, non so assolutamente niente, mi informerò questa sera e domani mattina sui risultati, chi è comunque sicuramente una giovane emergente, quindi da non sottovalutare. Certamente, allora ti lasciamo andare, Maria Elena grazie, in bocca al lupo per domani. Grazie, crapid lupo, ciao! Ciao!